signori buongiorno facciamo una semplice domanda per il telegiornale potete guardare in camera per favore buongiorno siamo con 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 in che senso con con siamo con io chiedevo solo nome e con graziella graziella ok eugenio graziella grazie per esservi fermati allora facciamo una piccola domanda sul governo meloni cosa ne pensate sul governo meloni grazie gentilissimi però ce la può dire è la sua allora cosa per stavolta la faccio rispondere non siamo di quella quella pazza lo amo diciamo e spero che in realtà riesca a fare qualcosa non è contro direi però l'importante è che riesca a fare delle cose fino adesso non mi sembra che mi fanno molto speriamo speriamo che si riesca a fare specialmente sui diritti che sono quelli che a quando fare tanti smagerati ma mai fatti scusate scusate va bene grazie mille buona giornata star Grazie a tutti.